Infiltrazioni criminali nel trasporto degli infermi e nelle onoranze funebri, la squadra mobile di Salerno e la divisione anticrimine della questura di Salerno, suddelega della locale procura, hanno eseguito questa mattina all'alba un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell'imprenditore di Capaccio Roberto Squecco e di altre dieci persone. Le accuse sono a vario titolo di intestazione fittizia di beni, riciclaggio, reimpiego di denaro di provenienza illecita, peculato, abuso d'ufficio, falso, turbata libertà degli incanti. I reati sono emersi nel corso delle indagini avviate dopo le amministrative del 2019, quando per festeggiare la vittoria elettorale del sindaco Alfieri sfilarono per le strade di Capaccio alcune ambulanze del 118, un episodio che portò alla denuncia per l'utilizzo improprio dei mezzi di soccorso e da cui lo stesso Alfieri prese le distanze. Gli approfondimenti investigativi hanno consentito di inquadrare Squecco come gestore di fatto di tutte le associazioni che operavano nel settore del trasporto infermi e delle onoranze funebri e che solo sulla carta erano intestate a suoi parenti e collaboratori. Squecco manteneva ruoli di secondo piano in tali associazioni che in realtà controllava e questo proprio al fine di impedire che fossero ricondotti a lui, già noto per una serie di precedenti penali, commessi anche per favorire il clan Marandino a cui era vicino e per cui era già stato condannato. Nonostante la fedina penale, Squecco continuava a intrattenere rapporti con le amministrazioni pubbliche, con enti, clienti e fornitori. Dalle indagini è emersa dunque la sua pericolosità sociale in quanto soggetto, dicono gli inquirenti, che viveva abitualmente dei proventi di attività delittuose e per la sua vicinanza al clan camorristico De Marandino, nonché per aver collezionato una serie di denunce per truffa, ricettazione, traffico di carte clonate, distrazioni di beni e capitali in danno dei creditori, condotti attraverso cui era riuscita ad accumulare capitale illecito per oltre 3 milioni di euro, poi reinvestiti guadagnandosi due condanne per bancarotta fraudolenta e attraverso cui era riuscita a mantenere il monopolio nel settore delle onoranze funebri e del pubblico soccorso tra Capaccio, Agropoli e Acerno. Emerso inoltre un complesso sistema di fatturazioni per operazioni inesistenti nella gestione delle società operanti nel settore sanitario, che avevano fruttato solo negli anni 2017-2019 a Squecco introiti per circa un milione di euro, successivamente riciclati nelle casse di altre ollus non operative. Alcuni di questi reinvestimenti hanno condotto l'imprenditore a costituire due società in Romania attive nella vendita e produzione di prodotti caseari o di acquistare attraverso la società Pianeta Pestum 12 terreni a Capaccio di circa 18 ettari per un valore attuale di circa 15 milioni di euro. Su di essi vi era in progetto la realizzazione di un parco divertimenti tematico con l'intervento delle amministrazioni di Capaccio e Agropoli. Il Tribunale, dopo le indagini che hanno utilizzato anche modalità operative innovative, ha disposto dunque il sequestro di una società con sede in Italia, due associazioni di soccorso, 26 automezzi, 7 conti correnti bancari, 12 terreni siti a Capaccio e uno a Zambor in Romania per un valore complessivo di circa 16 milioni di euro.